Tempo di bilanci per la Polizia Stradale Nissena. Stamani la dirigente Maria Grazia Milli ha reso noti i numeri relativi al periodo che va dal 1 giugno 2012 al 31 maggio 2013. I dati più significativi parlano di 9.952 mezzi controllati e oltre 10.000 persone identificate, di cui 6 arrestate e 79 segnalate all'autorità giudiziaria. Gli agenti della Polstrada negli ultimi 12 mesi hanno accertato oltre 10.000 infrazioni, revocando 2.020 patenti di guida e decurtando un totale di 5.800 punti. La Polizia Stradale Nissena ha anche sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti, 16 munizioni e 4 armi bianche. Allora, devo dire che gli utenti della strada vanno migliorando, ma ci domandiamo in quale senso. Facendo un'analisi di quest'anno del bilancio soprattutto del rilievo degli incidenti stradali, noi in un anno abbiamo rilevato, tra quelli più importanti, 58 incidenti stradali, che possono essere sicuramente un numero rilevante, però tra questi c'è stato soltanto un incidente con esito mortale. Per cui, devo dire che migliorano le conseguenze dell'incidente. Quindi, molto verosimilmente, cercando di portare la legalità e comunque il rispetto delle norme del Codice della Strada in tutte le forme, sia come comunicazione all'interno delle scuole, sia come prevenzione con i medi, eccetera, sia come anche repressione, e quindi come contravvenzioni e quindi repressioni vere e proprie, probabilmente si incide quantomeno sulla conseguenza dell'incidente stradale, che non appare più sempre necessariamente con conseguenze gravissime, quali lesioni permanenti o perdita della vita, ma anche delle conseguenze più lievi. Quindi, a mio avviso, sicuramente questo può essere un buon indice di risultato. C'è una particolare attenzione verso la leicità dei comportamenti e, voglio dire, la correttezza della guida nei confronti di noi stessi come esseri umani. Ma sicuramente, adesso che poi andiamo incontro all'estate, la stradale ama ricordare che spesso noi abbiamo dei compagni di viaggio che sono i nostri animali e che quindi anche loro devono essere trasportati secondo le norme del Codice della Strada e bisogna garantirgli sicuramente sicurezza, tranquillità nel viaggio, condizioni di benessere, quindi devono essere fatti scendere alle aree di servizio, devono bere, devono mangiare anche se poco e certamente devono essere trasportati per la propria sicurezza dell'animale e del conducente nei modi previsti, cioè messi nell'abitacolo separati quindi dal conducente, con la grata così come prevede il Codice. Soprattutto, questo è un appello a tutti gli automobilisti, quando si trovano cani purtroppo abbandonati, che è un fenomeno moralmente depregabile, si può chiamare immediatamente il 113 e sicuramente interverremo.